Adottare un sistema di irrigazione sostenibile si può fare? Sì, e a spiegarcelo è il presidente dell'Associazione delle Pesche di Montelabate, nonché noto agricoltore, Elso Renzi. Un'irrigazione che parte da una centralina e che poi viene diramata nelle coltivazioni. Noi, prima di tutto, usiamo l'impianto di irrigazione del Consorzio di Bonifica Marche, dove ci arriva una pressione di 4-5 atmosfere che poi noi distribuiamo nei vari settori del peschetto. Quando arriva l'acqua passa attraverso il filtro, quello blu, e poi da lì riparte con un piccolo programmatore, viene programmato i giorni di irrigazione, le ore di irrigazione. Se guardiamo in alto c'è un pluviometro dove automaticamente, se piove, salta i programmi previsti di irrigazione. Perciò diciamo che tutto l'impianto è rivolto al risparmio dell'acqua, cercando di calcolare anche che le produzioni non risentano il negativo se noi diamo meno acqua. E poi c'è l'ultima fase che è quello che poi distribuisce al campo. Dal filtro riparte, dicevamo, poi va a delle valvole comandate elettricamente dal nostro programmatore, e da quella fase passa l'irrigazione interrata, dove poi arriverà ai vari settori, al peschetto, al meleto. Abbiamo divisi in quattro settori in modo da programmare i tipi di irrigazione in base anche alle qualità delle piante. Perché ad esempio il pesco ha bisogno dell'acqua quando c'è l'ingrossamento del frutto fino all'indurimento del nuciolo. Poi dopo ha bisogno, negli ultimi 20 giorni, di crescita verso la maturazione. Da quanto tempo avete questo sistema nel vostro campo e quando sperate di riscontrare i risultati? Allora, questo tipo di impianto è due anni che l'abbiamo. E il riscontro purtroppo l'anno scorso non l'abbiamo potuto fare perché proprio in questa varietà il gelo aveva causato, non c'era nessuna produzione. Ecco, queste tre file si distinguono l'una dall'altra nella quantità di acqua che abbiamo visto prima la centralina distribuisce e in pratica nella prima fila abbiamo la distribuzione di 12 litri all'ora, nella quella centrale di 8 litri all'ora e nella terza di 4 litri all'ora. Ecco, l'università con le verifiche che fa periodiche misura ad esempio la grandezza dei rami col calibro, pesa ad esempio i rami che vengono tagliati alla potatura, calcolano le foglie che ci sono nella pianta e fanno 8-10 visite all'anno per fare tutte queste verifiche. Qual è la vera particolarità di questo sistema rispetto agli altri che avete nel vostro campo? La particolarità è che riusciamo a controllare la quantità di acqua che abbiamo e con le misurazioni che fa l'università a capire qual è la quantità giusta per avere un raccolto e uno sviluppo della pianta ottimale. Noi abbiamo visto che per il momento la verifica che si fa ogni anno ci dà la possibilità di dire che quella che ha 8 litri di distribuzione potrebbe essere l'indicazione ottimale. Ogni tot di mesi ci sarà una verifica da parte dell'università che verrà qui sul campo a valutare lo stato di salute delle piante, il prodotto anche finale. Le conclusioni sono tratte alla fine perché un lavoro scientifico deve superare i 4-5 anni di verifica. Andremo a vedere anche dei tensiometri che abbiamo sottoterra che ci misurano e ci dicono la quantità che abbiamo di acqua nel terreno perché uno lo rileva a 30 cm e gli altri a 60 cm e questo qui ci indica quando è ora di innaffiare.